Allora, oggi facciamo prima giornata di esercitazione, ovvero proviamo a risolvere tutti i problemi delle territoriali dell'anno scorso. Quindi, per farlo, vado sul sito territoriale.linfo.it che è dove ci sono i test e dove si può provare a sottoporre i problemi dell'anno scorso. Ci sono quelli dell'anno scorso, che sono i primi quattro, e poi ci sono quelli di due anni fa, che sono gli altri quattro. Oggi facciamo i primi quattro, domani faremo gli altri quattro. Vabbè, come facciamo? È che lo leggiamo, ci pensiamo, e poi scriviamo la soluzione, e proviamo a mandarla, e vediamo se funziona. Cominciamo con download. Primo problema. Monica ha regalato un nuovo harddisk a Mojito, il suo cagnolino. Si sa, Mojito è un grande amante di filmati e canzoni, quindi ha intenzione di riempire tutto lo spazio sul suo harddisk, cercando quanti più filmati e canzoni possibili. È importante menzionare che Mojito preferisce di gran lunga i filmati e le canzoni, quindi comincerà subito a scaricare quanti più filmati possibile. Nel caso in cui lo spazio rimanente sull'harddisk non gli desse altra scelta, Mojito ripiegherà sulle canzoni e comincerà quindi a scaricarne fino a riempire completamente l'harddisk. I gusti di Mojito non sono molto vari, i filmati che gli interessano hanno tutti la stessa dimensione e lo stesso vale per le canzoni. Per l'esattezza, tutti i filmati hanno una dimensione di F byte e tutte le canzoni hanno una dimensione di C byte. Sapendo che il nuovo harddisk ha una capacità di n byte, scrivi un programma che calcoli il numero di filmati e il numero di canzoni che Mojito scaricherà, sapendo che il cane dà la preferenza ai filmati. E poi spiega come viene dato l'input, che ovviamente è solamente, come in tutti i provendori territoriali, prima ti dice quanti casi di test ci sono, con questo numero T, e poi in questo caso ci sono solo tre interi che sono NFC. E poi l'output deve essere dato, come in tutti i problemi, in questo formato qua, cioè case, cancelletto il numero del caso a partire da uno, e poi l'output in questo problema, il numero di filmati e il numero di canzoni. Ok. Beh, questo problema è banale, nel senso perché abbiamo n byte a disposizione, vogliamo massimizzare il numero di filmati che scarichiamo, e allora la prima cosa che facciamo è che cerchiamo di fillarlo con quanti più filmati possibili. Ma quanti ce ne potremo mettere? Beh, ce ne potremo mettere n fratto f. Se abbiamo n byte a disposizione e un filmato occupa f, allora potremmo metterne n fratto f, è tornato per difetto. Una volta messi ciò, ricalcoliamo quanto è lo spazio che ci rimane, e quello spazio lo riempiamo con le canzoni. E di nuovo le canzoni, quindi sarà lo spazio rimanente fratto c. Quello non sarà il numero di canzoni che possiamo metterci dentro. Per dire che è abbastanza chiaro, cioè è abbastanza banale questo problema. Scriviamolo molto velocemente. L'importante quindi è avere più filmati possibili, chi se ne frega, delle canzoni. Devi avere più filmati possibili, e poi, quando hai finito lo spazio per i filmati, allora vuoi avere più canzoni possibili. Ma devi, cioè, riempirlo completamente? Non serve riempirlo completamente. L'importante è che massimizzi il numero di filmati che hai, ok? E, una volta che hai massimizzato i filmati, dopo vuoi massimizzare il numero di canzoni che hai. Ok. Ok? Quindi prima lo riempi con quanti più filmati possibili. Una volta che non ci puoi mettere più filmati, ci metti quante più canzoni possibili. Fine. Questa è la soluzione. Allora, io uso normalmente nano, per scrivere il codice, con l'intor testuale, puoi usare quello che volete. Tanto useremo strumenti base, in modo che siano, come posso dire, userò nano come editor, che è proprio base, 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 posso solo scrivere il codice e nient'altro. E faremo tutta la compilazione, esecuzione e quant'altro dal terminale, per essere proprio più base possibili. Io scrivo, io ho uno stile di cppu che è abbastanza non basilare, quindi potrebbe capitare molto spesso che scrivo delle cose che non conoscete, in tal caso fermatemi e chiedete. Allora, una cosa particolare con cui parto sempre, è che faccio include di, intanto scrivo in cppu, faccio include di bits.stdcppu.h. Questo qua è un header speciale che include tutti quanti gli altri header, quindi per non dovermi mettere in gara a scrivere tutti quanti gli include, faccio include di bits.stdcppu che include tutto. Dopodiché, solito, io uso in spesso std, chi conoscesse più più sa che lo si mette sempre per evitare di dover scrivere std, due punti, due punti davanti a ogni cosa. E poi abbiamo il main. Allora, abbiamo detto che, prima cosa, dobbiamo prendere t, ok, quindi faccio una variabile chiamata t, e la prendo con cin. Mi vedrete spesso usare sites.t come tipo. Sites.t in realtà è solo uno short end per scrivere unsigned long, sono la stessa cosa, ma io lo uso per differenza concettuale. Parlo di sites.t quando voglio esprimere una lunghezza, un numero di numeri, ok? Questo è un numero di test case. Invece metterò int e roba del genere, quando invece sto parlando di numeri. Ok, quindi. Ho preso il caso di esempio. Come cin? Cin è come si prende l'input in cppu. Si fa cin, maggiore, maggiore, e dove voglio mettere l'input. Quindi in questo caso sto prendendo un intero in 6t. Ok, ok. Ma non vanno tipo scritte due righe che tipo dicevano if stream in, e poi aperta parentesi, input text. Ah, ok. Allora, ottima osservazione. Quello là è per fare l'input da file, e giustamente l'input qua sarà da file. Però io lo faccio da standard input e lo stamperò su standard output, quindi da tastiera, ok? Perché poi farò un trucco da terminale che si chiama redirect dello stream, che mi permette da terminale di dire questo file spediscilo sullo standard input di questo programma. In questo modo non devo complicare il programma, posso leggere da standard input e stampare su standard output. e poi la gestione dei file la faccio da terminale e non dal programma. Vabbè, quindi lascici in e poi quando lo submetti cos'è che fai? Eh, poi vediamo. Poi vediamo quando lo faccio. Quindi non serve mettere quelle due righe? Non è che non serve, è che poi adesso vediamo, cioè quelle due righe servono per fare la lettura e scrittura da file all'interno del programma. Io invece di farla all'interno del programma la farò all'esterno. Ok, poi vi faccio vedere come. Però invece di farla all'interno la farò all'esterno. Ovviamente se la vuoi fare all'interno devi mettere quelle due righe, sì. Allora, importante è sempre vedere le assunzioni. Qua i numeri sono minori di 10.000, quindi possiamo usare dei tranquillissimi int. quindi dichiaro NFC, li prendo in input, CIN ha questa cosa bella che posso concatenare le letture. Quindi qua legge prima N poi F poi C. E ora cosa faccio? Beh, faccio la questione. Scusa, perché NFC nel foro? È perché perché l'input sono tanti casi, cioè nel senso sono T casi. Dovrò leggere quindi NFC T volte. Ma li ricrei sempre così? Sì, ma non è veramente importante. Cioè alla fine sto creando Tanto sto ricreando uno spazio costante di memoria ogni volta. Cioè non è importante. Certo, potrei mettere fuori dal foro la dichiarazione. La lettura no, ovviamente. Però non cambia niente. Ah, sì, sì, sì. Ok. Allora, quindi chiamiamo con V Ok. Quanti video riesco a scaricare? Beh, questa cosa sarà N fratto F perché se ho N byte e un filmato mi occupa F byte beh, allora posso averne N fratto F. A questo punto aggiorno lo spazio che mi rimane e quanto sarà questo spazio? Beh, sarà quindi a N che è lo spazio che avevo ci sottraggo lo spazio che ho occupato con i video ma quanto sarà? Sarà quanti video ci metto per quanto pesa un video? Quindi aggiorno lo spazio che mi rimane sottraendo lo spazio che occupano i video che ci metto. Quindi sono V video ognuno pesa F e sottraggo. Alla fine int int chiamiamo S ok, quante canzoni scarico V per video S per song e cosa sarà? Beh, sarà N che ora è il conto di quanti byte mi rimangono aggiornato fratto C che è quanti byte occupa una canzone. A questo punto faccio la stampa dell'output quindi case caso due punti e poi vuole prima quanti video riesco a scaricare e poi quante canzoni riesco a scaricare. Cout esattamente come CIN si può concatenare la stampa delle cose ok quindi stampo prima questo case cancelletto e poi ci metto il numero dell'iterazione partendo da 1 ok e poi stampo V ed S che è la risposta che è proprio quello che ci aspettiamo ok e poi vabbè return 0 per concludere il programma questo è il programma soluzione o perlomeno quello che ci aspettiamo che sia la soluzione magari è buggata in caso lo scopriamo allora la prima cosa da fare è compilarla ovviamente per compilare il terminale la cosa più banale che si può fare è fare gpp main.cpp che è il sorgente meno ho nome dell'eseguibile che vogliamo generare questo su linux attenzione su windows ovviamente è leggermente diverso a parte che poi su windows di solito non si compilia il terminale però io lavoro su linux e questo quindi ovviamente facciamo le cose come si fanno su linux quindi la gpp main.cpp che è il sorgente meno ho l'eseguibile lo chiamiamo main la seconda cosa che vogliamo fare è testare il programma ora che ha compilato vogliamo testare sull'esempio allora cosa faccio semplicemente visto che il nostro programma legge il terminale e stampa su terminale faccio un bel copia qua eseguo il programma che su linux si fa punto slash nome dell'eseguibile faccio un bel incolla ok e vedete che per carità per come funziona questa cosa quando non ho fatto la capo ma chi se ne frega comunque ho stampato case numero 1 310 e case numero 2 330 che dovrebbe essere la risposta ora potrei direttamente provare ma prima voglio farvi vedere come funziona questa cosa di leggere un file come se fosse lo standard input cioè come se fosse letto la tastiera allora prima di tutto prepariamoci il file ora uso questo qua ad esempio quindi nano input punto txt quindi in input punto txt ci metto il caso ad esempio ok su nano per salvare ctrl o invio per chiudere ctrl x e ora quello che voglio fare è dire guarda il programma main voglio che usi come standard di input un file invece che leggere la tastiera voglio che usa un file come faccio? beh esistono questo che si chiama redirect che basta fare minore e il file e in questo modo quello che sta facendo è che sta facendo il redirect cioè sta redirigendo il file input txt come se fosse l'input da tastiera del programma main per questo dico che non serve per questo dico che non serve fare per forza la lettura da file dentro il programma si può fare anche da fuori in questo modo ed è semplice secondo me tra l'altro a parte delle piccolissime accortezze questa cosa funziona anche su windows su windows quello che cambia l'unica cosa che cambia a finora di quello che ho fatto è che gli eseguibili devono per forza terminare con .exe quindi invece di fare meno main si fa meno main.exe ma a parte quello tutto il resto uguale anche il minore funziona ok quindi così è come posso prendere un file e sbatterlo come standard input di un programma però io vorrei anche salvare quello che vedo da terminale in un file ok beh esiste oltre il redirect in input che si fa col minore esiste anche il redirect in output così facendo ho detto main guarda il tuo standard input prendilo da input.txt e il tuo standard output non stamparlo sul terminale ma scrivilo sul file output.txt infatti adesso ho questo file si chiama output.txt e lei si fa vedere i file nella cartella se faccio cut che mostra i contenuti di un file vedrò che nel file output.txt c'è l'output del programma ok detto ciò siamo pronti a vedere se il nostro programma è corretto cosa facciamo richiedi input ok scarica input lo mettiamo lo mettiamo nella cartella in cui stiamo lavorando ok quindi è questo file qua download input 1 vediamo un po' cosa c'è dentro ci sono dentro questi sei casi e ora vogliamo risolverlo come facciamo? se facciamo main minore download input 1 questa è la soluzione per quel caso ad esempio lo salviamo in un file quindi chiamiamolo download output 1 quindi da dentro ci sarà la risposta ci sarà quello che ha stampato riandiamo qua facciamo carica soluzione mettiamo ci chiede prima il sorgente e ci mettiamo quindi main.cpp e poi ci mettiamo l'output che quindi è download output 1 una volta che è tutto caricato facciamo invia e se abbiamo fatto tutto corretto ci dà il punteggio massimo 6 su 6 ok quindi questo è come si risolve si risolve la download ovviamente l'ho fatta un pochino più lunga perché almeno così vi faccio vedere anche i vari passaggini che uso io per creare file fare queste cose del redirect dell'output che ripeto si può fare anche su windows l'unica accortezza da fare è che quando compilate il programma con gpp sorgente meno robo dovete mettere .exe alla fine invece su linux è senza il .exe alla fine ok primo problema dimmi prendi solo c++ non ho capito scusa queste le territoriali o con forze prendono solo c++ ma allora ogni ogni gara ha un set su di linguaggi consentiti le territoriali in particolare quest'anno accettano solo c++ mentre tanti altri siti tipo codeforces codeforces accetta una marea di linguaggi diversi invece le territoriali da regolamento accettano mentre l'anno scorso accettavano tre linguaggi che erano c++ quest'anno accettano solo c++ ok secondo problema si chiama tornello facciamo una cartella che chiamiamo tornello perfetto così ci lavoriamo dentro ok vediamo un po' cosa ci dice questo settembre all'ISGB pentasuglia di Matera si darà la fase finale dell'olimpiade di informatica come ogni anno Monica sarà presente e si occuperà di aspetti organizzativi legati alla logistica degli studenti come assicurarsi che tutti siano presenti quando c'è da prendere un autobus ritrovare e restituire la valigia prodotta da qualche studente distratto radonare gli studenti prima della gara in modo che nessuno rimanga per sbagli in hotel e così via per ottimizzare l'efficienza con la quale svolgerà queste mansioni Monica è pianificata di installare un tornello simile a quello rappresentato in figura agli ingressi che l'interessa controllare come l'ingresso della serie di gara dell'hotel e così via un tornello permette a Monica di essere informata in modo automatizzato da quando uno studente entra o esce da una stanza in risposta a questi due tipi di eventi il tornello manderà rispettivamente un segnale più uno e un segnale meno uno sul pc di Monica naturalmente il tornello non fornisce alcuna informazione su chi è effettivamente entrato o uscito al fine di prevedere i movimenti degli studenti Monica ha scelto una stanza da monitorare e sta cercando di dedurre a partire dalla sequenza di segnali più o meno uno ricevuti dal tornello posto al suo ingresso quale sia la risposta alla seguente domanda qual è il numero minimo di studenti diversi che hanno visitato la stanza nota bene quando il tornello viene acceso e comincia a contare gli ingressi e le uscite è possibile che nella stanza siano già presenti alcuni studenti lo stesso vale quando il tornello viene spento potrebbero rimanere alcuni studenti all'interno inoltre per lo scopo di questo problema supporremo che non ci siano ingressi e uscite secondari per accedere alla stanza monitorata e che nella stanza in questione si è installato un solo tornello e poi fa degli esempi quindi il problema abbastanza chiaro abbiamo questo tornello sappiamo quando qualcuno esce quando qualcuno entra vogliamo determinare qual è il numero minimo di persone che si potevano trovare all'interno della stanza in un qualunque dato momento qua fa degli esempi dice se escono tre persone ok se tutto quello che sappiamo che sono uscite tre persone beh allora per forza di cose nella stanza ad un certo punto ci devono essere tre persone se escono tre persone ok perdone entrano escono adesso non mi ricordo meno uno se entra uscire rivediamo quando esce meno uno ok quindi qua sono uscite qua entran tre persone e allora vuol dire che in un certo momento alla fine dovrebbero esserci per forza tre persone dentro poi abbiamo per esempio questo più uno meno uno più uno e qua tutto quello possiamo dire è che nella stanza per forza ad una certa ci devono essere almeno una persona perché beh all'inizio potrebbero essercene zero poi qua è entrato uno e quindi c'era una poi qua è uscita quella persona e qua è entrata un'altra ora è entrato lui quindi sicuramente almeno nella stanza ci devono essere una persona perché in Italia ce ne potrebbero essere di più ce ne potrebbero essere anche mille cioè potrebbero essercene mille sono andate mille uno sono tornate mille e poi sono andate di nuovo a mille uno però sta credendo qual è il minimo numero di persone che ci dovevano essere ok quindi questo è il problema vediamo un po' come risolverlo quindi prima cosa vogliamo pensare mentalmente a una soluzione che sia quantomeno corretta allora la prima osservazione che farei io su questo problema è che sicuramente in una stanza non ci possono mai essere meno di zero persone ovviamente cioè non potrà mai capitare che la stanza è c'è un numero negativo di persone quindi sappiamo che in ogni istante il numero di persone deve essere maggiore uguale a zero ma allora cosa possiamo dire noi sappiamo che all'inizio nella stanza ci sarà un certo numero di persone non sappiamo quant'è un certo numero x e poi quello che succede è che ci vengono dati degli update che ci dicono più uno ci dicono più uno meno uno meno uno più uno meno uno meno uno più uno meno uno più uno più uno più uno meno uno roba del genere noi sappiamo che non può mai succedere che nella stanza c'è un numero negativo di persone ma allora cosa vuol dire se dobbiamo assumere che ci siano il minor numero possibile di persone nella stanza perché è quello che stiamo cercando possiamo dire allora che quando raggiungiamo il minimo storico ok non importa da che x siamo partiti è una qualche x incognita ok quando raggiungiamo il minimo storico allora possiamo dire che questo è lo zero perché se non ci possono essere mai meno di zero persone e noi stiamo cercando qual è il minimo possibile il numero minimo possibile di quante persone c'erano in un certo momento ok allora quello che possiamo dire è beh visto che siamo pessimisti visto che stiamo cercando di trovare il minimo numero di persone che al massimo ci possono essere state dentro allora mettiamo lo zero ok al minimo storico cioè nel punto più basso che abbiamo toccato a partire dalla nostra x incognita ma a questo punto allora il massimo numero di persone che abbiamo che ci è stata dentro questa stanza in un qualunque momento con questo con questa vista pessimistica sarà il picco massimo che lo chiamiamo y quindi se noi in qualche modo plottiamo questa funzione qua di meno 1 e più 1 che ci arriva in ingresso andando 1 in su ogni volta che c'è un più 1 e 1 in giù che ogni volta andiamo in 1 quello che ci interessa ok è la differenza è la differenza tra il picco massimo e il picco minimo perché il picco minimo lo mettiamo come se fosse il nostro zero il picco massimo è il massimo che abbiamo mai raggiunto e allora vuol dire che il numero il minimo numero di persone che al massimo ci sono state dentro sarà questo picco massimo e per dire quanto è beh usiamo come frame of reference il minimo perché il minimo sappiamo che possiamo appoggiarlo a zero che è la cosa peggiore che può capitare ok 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 allora scriviamola quindi solito include bits std più solito using space std di solito i primi due problemi sono abbastanza banali beh il primo è proprio banale banale il secondo è facile quindi site std leggiamo t poi lo chiamo caso in italiano e non case perché case è una keyword in cpp e quindi non posso usarla allora lo chiamo caso in italiano allora vediamo come è fatto l'input l'input ha il numero di volte che il tornello ho girato e poi la sequenza di più 1 e meno 1 allora cosa facciamo ma facciamo così allora intanto ci serve n cioè quanti quante volte il tornello ho girato dopodiché io mi tengo una variabile che chiamo ma che inizializzo zero una che chiamo mi che inizializzo zero e una che chiamo c che inizializzo zero e cosa vogliono dire ma voglio metterci il massimo storico mi voglio metterci il minimo storico e c è quanto è in questo momento il livello dove zero è la nostra x dove per zero dove è finita la lavagna qua dove per zero intendo questa x qua questo è il livello zero in qualche modo mi sarà questo e ma sarà la y ok allora cosa faccio adesso allora mi leggo tutti quanti i valori quindi forseight i uguale a zero finché i è minore di n i più più e cosa faccio leggo l'input chiamiamolo a quindi leggo un singolo più uno meno uno in questa a dopodiché aggiorno il valore corrente tramite a cioè ce lo sommo e poi dico guarda il massimo che ho mai raggiunto sarà il massimo tra il massimo che ho mai raggiunto e quello che ora cioè quello che sono in questo momento stessa cosa per il minimo cioè cosa sto dicendo se c sfora il massimo che ho trovato finora allora lo aggiorno stessa cosa per me se c sfora in basso il minimo come raggiunto allora lo aggiorno ma allora alla fine la risposta cosa sarà sarà abbiamo detto la differenza tra il massimo e il minimo ovvero questa differenza qua tra la y e lo 0 bene vediamo se compila compila ok copiamo l'input questo è un modo veloce per scrivere in un file sto scrivendo nel file input.txt quella roba là infatti adesso se lo se lo stampo esce fuori eseguo il programma con questo input e mi viene tra 3 1 5 vediamo 3 3 1 5 abbiamo passato il caso ad esempio vediamo se passiamo il problema generale allora facciamo richiedi input scarica input lo mettiamo qua dentro ok questo è quello che esce fuori noi lo vogliamo scrivere in un file ok e proviamo a caricarlo e vediamo cosa succede quindi ci chiede il sorgente ce lo mettiamo e poi ci chiede il file di output e ce lo mettiamo 12 su 12 abbiamo risolto il problema ok ok ma queste cioè le risposte che gli danno non si basa sul procedimento che hai fatto cioè si basa sull'output giusto o buona sì 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 lui controlla solo l'output non controlla il sorgente il sorgente è solo per archiviazione controlla solo l'output ok prossimo problema gerarchie allora le olimpiadi italiane di informatica sono gestite da luigi con l'aiuto di n ragazzi e ragazze che prendono il numero di tutor questi membri dello staff che in passato ha partecipato alle OI come voi con grande impegno ed edizione mettono a beneficio delle OI le loro conoscenze tecniche le loro conoscenze tecniche in così tanti però è difficile organizzarsi per questo già da molti anni è stata definita una gerarchia molto precisa che se rispettata massimizza l'efficienza della squadra al tutor esimo è stato associato un tutor di riferimento RD che è in pratica un altro tutor incaricato di supervisionare il suo lavoro in cima alla gerarchia si trova il tutor leader al quale non è assegnato alcun tutor di riferimento l'efficacia di questa politica è massima quando ogni tutor di riferimento risulta più competente di tutti i tutor che è incaricato di supervisionare negli ultimi anni però Luigi si è accorto che qualcosa non va sembra infatti che i livelli di competenza CDI dei vari tutor siano cambiati e che quindi non ci sia più il bilanciamento necessario urge una riorganizzazione però essendo tra amici ed essendo la burocrazia molto costosa sarà necessario prestare molta attenzione alle promozioni fatte la promozione di un tutor I consiste nello scambio di ruolo tra I e il suo tutor di riferimento di fatto facendo salire I nella gerarchia e facendo scendere il suo supervisore ognuna di queste operazioni ha un costo e per bilanciare l'intera struttura Luigi vorrebbe farne il minor numero possibile essendo tra amici Luigi vuole evitare che un tutor venga continuamente promosso ed è classato durante la riorganizzazione per evitare ogni problema si impone quindi la seguente regola se un tutor viene promosso tutti i successivi scambi di ruolo che lo coinvolgono dovranno essere ancora delle promozioni aiuta Luigi a calcolare il numero minimo di scambi che deve fare per riorganizzare la gerarchia senza però mai violare la sua regola ok quindi chiede il numero minimo di scambi ok si può scambiare tra gerarchie cioè il fatto che quello che ti sta dicendo è che l'unica cosa che puoi allora vuoi che se uno è il padre di qualcuno cioè se uno è sopra qualcuno allora deve essere più bravo di lui ok tra l'altro non è chiaro se non è chiaro se ci possono essere due tutor con la stessa competenza adesso poi vedremo comunque quello che vuoi è che chi sta più in alto non sia più scarso di quello che sta sotto e quello che puoi fare è che puoi prendere una persona scambiarla con quello che c'è sopra di lui e basta l'importante puoi farlo tante volte l'importante è che una volta che scambi qualcuno verso l'alto questo qua va solo in alto non potrà mai più andare in basso sì no volevo sapere tipo che ne so quello tutto a destra tutto in basso posso scambiarlo come tutor in alto quello tutto in alto a sinistra puoi scambiarlo solo con questo qua ok 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 puoi scambiarlo solo con suo padre tra virgolette bene questo è il problema allora la prima domanda che mi faccio è ah ok perfetto i valori di competenza dei tutor sono numeri da 0 a n-1 e sono tutti distinti quindi vuol dire che ci sono per forza tutti i numeri tra 0 e n-1 ok perfetto allora la prima cosa e dobbiamo fare il numero minimo di scambi possibile allora la prima cosa che ci dobbiamo chiedere è qua poi vabbè esempi 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 insomma comunque utile da guardare anche gli esempi nel caso vengono domande e la domanda che ci facciamo è come facciamo allora noi sappiamo che avremo alla fine quello che ci sta descrivendo è un albero questo qua è un albero ok abbiamo un certo albero e vogliamo far rispettare quella che noi abbiamo chiamato la proprietà di maxhip ovvero che ogni padre è maggiore dei suoi figli allora normalmente il questo albero avrà dei valori quindi che ne so 2 1 0 4 3 cosa manca 5 6 7 ok avrà dei valori e vogliamo fare degli scambi verso l'alto possiamo fare solo scambi verso l'alto quindi prenderne uno e portarlo su di uno più volte anche volendo ma solo scambi verso l'alto che ci permettono di di garantire la proprietà di maxhip ovvero che per ogni nodo tutti i suoi figli sono minori beh però sappiamo anche un'altra cosa che i come si chiamano i i nodi i valori che abbiamo sono tutti e soli i valori tra 0 e n-1 ma allora una domanda che vi faccio è qual è l'unico valore che potrà esserci alla radice il più grande n-1 n-1 e per forza se sono tutti distinti e lui deve essere il maggiore dei figli non ci sono cioè non possiamo farci niente dobbiamo per forza metterci i 7 come come radice ma allora ci può venire in mente un semplice algoritmo ricorsivo facciamo che non mettiamo 7 diciamo che mettiamo il maggiore che è la stessa cosa è come dire la stessa cosa un algoritmo ricorsivo potrebbe essere questo se abbiamo un solo nodo ok se c'è un solo nodo indifferentemente da che veloce c'è dentro che invece è x allora abbiamo finito perché ovviamente lui non ha figli e allora è a posto perché non ha dei figli che sono maggiori di lui se invece ho un nodo e poi ho dei sottoalberi ok qua c'è un'altra roba chi se ne frega cosa posso fare? beh posso andare a individuare il maggiore mettiamo che sia qui posso andare a individuare il maggiore e farlo salire fino alla radice ok scambiando 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 se faccio ciò allora beh posso dire che lui è a posto e posso riportare il problema sui miei figli perché a questo punto io sono questo qua è il più grosso di tutti sicuramente adesso i figli sono a posto perché se lui è il più grosso di tutti adesso allora i figli devono essere minori e ora posso rifare lo stesso ragionamento sui figli quindi posso usare questo approccio ricorsivo per risolvere il problema fondamentalmente è chiara l'osservazione? cioè l'osservazione è prendo il massimo e lo faccio andare alla radice e una volta che la radice è a posto la taglio e sistemo i figli e vado avanti così finché non raggiungo tutte le foglie questo è il concetto questo è il come lo vogliamo risolvere scriviamo il codice allora prima di tutto vediamo come è dato l'input c'è sempre t poi c'è il numero di nodi e poi cosa c'è? allora il primo il primo allora il primo valore ci sono rd e cd rd è chi è il padre credo rispettivamente l'input del tutor di riferimento e il livello di competenza ok perfetto quindi il primo valore è chi è il padre e il secondo valore è qual è il livello di competenza e quello che vogliamo dare in output è quanti scambi abbiamo fatto bene si chiama questo problema gerarchie quindi gerarchie ok perfetto facciamolo quindi nano main.cpp gits stdcpp .h using namespace questo qua è un mantra praticamente è l'inizio di ogni programma ok ora facciamo sites t t c in t for sites t caso uguale a 1 finché caso minero uguale a t caso più più ok allora la prima cosa che abbiamo detto c'è n n è il numero di nodi la prossima cosa dobbiamo fare è prendere l'input l'albero ora come salvare in memoria un albero beh un albero è solo un tipo particolare di grafo alla fine è un tipo particolare di grafo diretto per essere un pochino più precisi addirittura quindi un modo in cui lo possiamo salvare è tramite una delle strutture che usiamo per salvare i grafi questo è un modo un altro modo in cui si possono salvare gli alberi se è un modo efficiente a volte lo è a volte non lo è è ad esempio dicendo solo che è il padre che è come viene dato in input ma noi cominciamo proviamo a salvarlo con le cose che abbiamo fatto per i grafi e useremo una lista di adiacenza allora facciamo questa lista di adiacenza una lista di adiacenza come vi ricordate è un vector di vector è un vettore statico di vettori dinamici in GPU c'è già la classe vector non dobbiamo scriverci noi il vettore dinamico e quindi sarà un vector di vector di size t perché sono indici e io solo chiamo la lista di adiacenza children quindi cosa faccio children di n perché praticamente questo n sta dicendo guarda che voglio un vettore di roba questa qua è la roba del vettore ok questo è il tipo del vettore che poi a sua volta è un vettore di size t che sono interi e voglio che sia lungo n è come se facessi un vettore statico lungo n che è appunto la cosa di adiacenza in più io voglio anche facciamo un altro vettore ok faccio un altro vettore che mi dice che mi dice quanto vale ogni nodo perché questo qua è come se fosse quindi un grafo semplice che però è pesato sui nodi e quindi faccio un altro vettore che mi dice i pesi dei nodi e lo chiamiamo value ok allora lo leggiamo quindi forse t quanti quante righe sono da leggere sono n quindi forse t i uguale a 0 finché mi sono minore di n i più più ok chiamiamoli a e b i due valori che leggiamo quindi leggiamo a e leggiamo b ora a è chi è il padre ok b è il valore allora cosa facciamo intanto mettiamo facciamo una variabile che chiamiamo root dove ci segneremo chi è la radice cioè chi è il padre primordiale che sarà quello che ha meno 1 allora cosa facciamo ci chiediamo a è uguale a meno 1 se si allora root è uguale ad a eh perdono non uguale ad a uguale a i che è l'indice di dove siamo arrivati finora cioè è chi è la radice altrimenti vediamo in qualunque caso ci segniamo anche che il value del nodo i è b ok questo è per prendere quei valori là ora vogliamo anche salvarci la lista di decenza allora cosa facciamo ricordiamoci che la cosa era mi salvo ok in questo caso no ok se sono la radice non devo fare niente perché non so a chi sono collegato se non sono la radice invece so che io i sono collegato ad a allora quello che faccio è che dico che children di a ok ha come collegamento i e poi dico che children di i ha come collegamento a questo è l'aggiunta dell'arco io so che mettiamo che questo qua era sono arrivato quindi a i so che sono collegato a a e allora metto l'arco da entrambi le direzioni metto sia da questa direzione che da questa direzione da i mi collego ad a e da a mi collego a i ok e con questo ho risolto il cioè ho children che mi dice il che mi rappresenta il grafo ora voglio fare quella procedura ricorsiva allora come sarà fatta questa procedura ricorsiva sarà fatta in questo modo sarà una certa funzione ok che cosa fa che mi dice quanti scambi cioè quello che mi deve restituire questa questa funzione è quanti scambi ho fatto in totale per risolvere il problema quindi chiamiamo questa funzione la chiamiamo f ok e restituirà un int che è il numero di scambi quanti scambi ho dovuto fare per sistemare la situazione a partire da questo nodo ok quindi sarà questa f a cui cosa gli passo beh gli passerò il nodo in cui si trova chi è il numero di scambi chi è suo padre ok e poi gli serve anche sapere quali sono quali sono quali sono quali sono gli serve avere children ok e gli serve avere value noterete che ho messo queste commerciali dopo a cosa servono queste commerciali questo qua è un passaggio degli argomenti in cpu che si chiama per riferimento praticamente vuol dire che invece cioè normalmente in cpu se voi passate un parametro a una funzione lui fa una copia di quel parametro ora se dovete passare un intero ovviamente chi se ne frega se deve copiare 4 byte deve copiare una quantità costante di di come si chiama di memoria invece essendo che la lista di adiacenza è una struttura grossa o grande di n più m se dovessimo copiare ogni volta che facciamo una ricorsione ci costerebbe troppo allora se fate il passaggio per riferimento quello che state dicendo è invece di copiarla prendi quella originale usa quella originale che ho passato come parametro cioè non copiarla usa quella originale questa è anche la conseguenza che se noi ci scriviamo sopra sovrascriviamo quella originale allora poi scrivemo la funzione però fondamentalmente quindi la risposta al problema cosa sarà sarà deve essere il numero di scambi ma il numero di scambi è proprio quello che risponde f quando chiamato sulla radice quindi la risposta al nostro problema sarà proprio f di root bene quello che dobbiamo fare è la ricorsione allora cosa facciamo? beh dobbiamo quindi cercare qual è il il nodo maggiore di quelli che abbiamo in tutti quanti i sottoalberi ok e poi dobbiamo fare gli scambi per portarlo al nodo in cui ci troviamo adesso che è node ok quindi questa f dovrà fare questo lavoro qua ora c'è un problema qual è il problema? è che in qualche modo adesso dobbiamo cercarlo questo nodo maggiore ok e allora come possiamo fare? ci sono tanti modi possiamo potremmo per esempio fare una bfs ok potremmo per esempio fare una bfs a partire dal nodo in cui ci troviamo e in questo modo se facciamo una bfs e ci teniamo i padri una volta che troviamo questo valore che è il maggiore di tutti abbiamo anche i padri quindi possiamo fare gli scambi quindi questo è un modo in cui possiamo farlo oppure potremmo fare una specie di ricorsione anche volendo però proviamo a usare lo strumento della ricerca per ampiezza ok in fondo questo è un problema su grafi alla fine è un po' facile nel senso più facile perché è un albero però comunque un problema su grafi ok cosa facciamo allora quello che vogliamo fare è quindi metterci in moto per poter fare una bfs ok cosa facciamo allora per fare la bfs ricordiamoci che ci serve il cosa ci serve ci serve la coda quindi ci servirà una q per ora facciamo di int poi vediamo se ci serve di qualcosa ok e poi ci serve un vettore ci serve il vettore dei padri ok quello che chiamavamo p ok perfetto se lo vogliamo inizializzare qualcosa vector ci permette di fare un bellissimo meno uno così proprio siamo a posto e poi cosa ci serviva ci serviva il ci serviva un vettore per dire se un nodo l'abbiamo visitato o meno magari oltre questo no in realtà si ci basta ci basta possiamo ci basta un vector di bool ok visite che ci dice se li abbiamo visitati o no se non diciamo niente il vector di bool viene inizializzato a false però se vogliamo possiamo essere espliciti inizializzarlo a false ok allora adesso cosa facciamo beh guardiamo chi sono i vicini chi sono i figli di node ok gli aggiungiamo la coda e facciamo la bfs allora cosa facciamo quindi for sext i uguali a 0 finché i è minore di children di node punto sites ovvero di quanti elementi ci sono nel vettore children di node che sono i vicini di node ip più e diciamo che se questo è importante se children di node di i ovvero il nodo vicino è diverso da parent perché non vogliamo tornare indietro non vogliamo risalire al padre vogliamo solo andare in basso per questo ci serve anche sapere chi è il parent infatti poi dovremmo cioè qua dovremmo essere un pochino più precisi dovremmo chiamare è meno uno perché inizialmente il padre non c'è e poi children value così terminiamo la chiamata perfetto quindi tutti quanti i vicini che non sono il padre possiamo aggiungere la coda facciamo q.push di children di node di cioè del vicino ok ora come faccio ad accorgermi che sono una foglia che quindi ho finito beh se q.sites è uguale a 0 che tra l'altro esiste anche un metodo molto più carino che è se la coda è vuota if q.empty allora ho finito perché non devo fare nessuno scambio questo è il caso base ok se ho finito se non ho nessun figlio allora non devo fare nessuno scambio ho finito e basta altrimenti cosa devo fare devo fare la bfs allora intanto otteniamoci un un nodo che ci dice qual è il maggiore che abbiamo trovato finora ok chiamiamolo ma anzi chiamiamolo maximum dai maximum possiamo dire che inizialmente è il nodo di partenza è un valore valido ok notare che ci serve ci interessa anche avere oltre al al nodo una cosa una informazione che dobbiamo salvarci anche chi è il padre quindi diciamo che parent di children di nod di ok che è quello che stiamo aggiungendo beh in questo caso è nod perché stiamo parlando da nod poi dovremmo aggiornare il parent anche dentro la bfs allora diciamo finché la coda non è vuota questa è la normalissima bfs cosa diciamo diciamo che prendiamo il nodo ah tra l'altro un'altra cosa che dobbiamo fare è che il nodo sorgente quindi nod l'abbiamo visitato allora prendiamo il nodo quello che c'è in primo in coda chiamiamolo front quindi q.front q.pop in cpp la coda non ha il pop che usavamo noi che faceva contemporaneamente restituiva l'elemento e lo levava ma ne ha due diversi uno ha .front che prende che è il primo e poi pop che lo leva e basta ok cosa facciamo beh diciamo che if se l'abbiamo già visitato if visited di front allora continuo perché l'abbiamo già visitato ok altrimenti cosa facciamo diciamo beh l'abbiamo visitato ora ok e se il valore di questo nodo qua che è front è maggiore del valore del massimo che abbiamo trovato finora allora aggiorniamo qual è questo massimo perfetto ora cosa facciamo dobbiamo visitare vicini quindi for 60 uguale a 0 finché è minore di children di front punto sites quindi vicini di front in più più ok cosa dobbiamo fare diciamo che se non l'abbiamo già visitato if not visited di come si chiama e se non abbiamo visitato il nodo in cui vogliamo andare che è quindi children di front di ok beh allora lo visitiamo quindi cosa facciamo lo mettiamo in coda ok e dobbiamo decidere sempre la convenzione se dire che è visitato quando lo stiamo visitando o prima perché qua ne stiamo usando una mix ed qua abbiamo prima fatto prima e qua invece stiamo facendo mentre quindi dobbiamo deciderci in qualche modo beh possiamo fare possiamo consistentemente fare prima magari quindi quando lo stiamo per visitare diciamo che è visitato quindi qua devo aggiungere che è visited ok quindi visited di children od è true ok quindi qua non devo più controllarlo perché se l'ho messo dentro vuol dire che non era visitato ok e così adesso posso segnarlo qua dico che l'ho visitato lo faccio a priori e così posso anche segnarmi che è il padre il padre di children di front di pardon è front se ci sono arrivato da front beh è proprio front ok bene e con questo ho fatto la ho fatto la bfs a questo punto alla fine in maximum ci sarà l'elemento che voglio l'elemento più grande cioè quello che voglio portare alla radice allora cosa posso fare posso dire che mentre il parent di maximum è diverso da meno uno ok vuol dire finché non sono arrivato al nodo radice allora posso scambiarli posso dire swap swap è una funzione che scambia due valori posso swappare value di maximum maximum con value del parent di maximum cioè del padre e poi cosa faccio dico che maximum diventa suo padre quindi l'ho portato su di uno e mi devo segnare quante volte sto facendo questa cosa quindi faccio una variabile swaps che inizializzo a zero e ogni volta che faccio uno scambio dico che swaps più uguale a uno ok con questa cosa ho portato ho fatto un livello ho preso il nodo radice da cui l'ho partito ho trovato il massimo tramite un bfs e poi tramite questi scambi qua finali l'ho portato sopra l'ultima cosa che devo fare è devo ricorrere sui figli che però è abbastanza facile perché cosa faccio scorre figli forse sti uguale a zero finché minore di children di node punto sites ippu ok e cosa faccio se come prima attenzione sempre ricordare che non voglio ricorrere sul padre voglio ricorrere solo sui figli se il nodo è diverso dal padre allora posso ricorrere sul figlio ovvero aumento il numero di scambi che devo fare chiamando ricorsivamente su ogni figlio mettendo come padre me stesso alla fine di tutto ciò ritorno il numero di scambi che ho fatto ok questa dovrebbe essere la soluzione ora è lunghina quindi potrebbe essere che non compila potrebbe essere errata potrebbe esserci tantissimi problemi non lo possiamo sapere finché non la compiliamo infatti infatti non compila andiamo a scoprire il perché allora ci dice che non compila perché a riga 7 n non è stato dichiarato andiamo a vedere ok ok effettivamente n non esiste perché n dobbiamo ricavarcelo n beh non sarà altro che children.size cioè il numero di vettori nella lista di recenza perché non me lo sono portato nella ricorsione potevo portarmelo ma fa niente me lo ricavo così andiamo a vedere cosa non gli piace a sto giro ogni tanto faccio reset perché almeno così leva quello che c'è prima cosa dice decoration of parent shadows parameter ok cioè vediamo cosa ho sbagliato ah certo ho chiamato due cose parent cioè sia questa variabile che si chiama parent sia questa variabile che si chiama parent e questa cosa non si può fare ovviamente quindi facciamo che chiamo questo parent lo chiamo p come l'abbiamo chiamato nel nel come si chiama nella nella bfs che abbiamo fatto quindi ora vado a cercare tutte le volte che ho usato parent in questo senso non ha un sostituisci cioè sostituisci eh il problema è che ci sono due cose che si chiamano parent e io voglio sostituire solo effettivamente il vettore parent non la variabile parent ok dovrebbero essere tutti giustamente si lamentava perché avevo chiamato due variabili nello stesso modo ok solo un errore mi dice a riga 37 che c'è qualcosa che non va perché me ne sono dimenticato uno allora vediamo se compila quanto meno compila ok è un primo passo il secondo passo è vedere se non crasha se dà la risoluzione giusta e quant'altro che non è assolutamente scontato vediamo un po' cosa succede e c'è qualcosa che non va perché ci risponde 0 in entrambi i casi e invece dovranno essere 6 e 2 quindi vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa avevo aperto il binario invece che il sorgente ok allora vediamo se c'è qualcosa di ovviamente sbagliato qua prendiamo n qua prendiamo i valori facciamo la lista di adiacenza la passiamo a f ok vediamo un po' di debuggare intanto vediamo che funzioni di f vengono chiamate quindi chiamo vediamo stampiamo node e parent e vediamo cosa ci dice così quei due end è per dire eseguire questi due comandi quindi qua chiama giustamente chiama il nodo 1 poi il nodo 3 poi il nodo 2 quindi i nodi li sta chiamando ok vediamo un po' a quanto pare questo swaps non fa la cosa che mi aspetterei vediamo un po' debuggare è sempre la cosa peggiore debuggare è proprio by far sempre la cosa peggiore allora vediamo un po' potremmo stampare ad esempio chi è allora il maximum l'ho messo al nodo iniziale ok quindi facciamo finta che lui è il massimo inizialmente poi dico che il nodo iniziale l'ho visitato poi per tutti quanti i figli che non sono il parent li metto in coda dico che l'ho visitato e faccio pc uguale node ok quando estraggo le cose guardo se value di front è maggiore di value di maximum allora maximum uguale true questa cosa è sbagliata questo era maximum uguale front ok cioè nel senso maximum uguale true non vuol dire niente maximum uguale front vuol dire che aggiorno il massimo con quello che ho estratto in questo momento ok 62 è corretto è corretto ok quindi adesso passiamo anche il caso d'esempio che è già qualcosa in più era solo un micro errorino che era un typo che invece di scrivere maximum uguale front avevo scritto maximum uguale true ok vediamo se regge quindi scarico il caso di input pardon che ho fatto una cosa che non dovevo fare ok quindi questo qua è il problema gerarchie main gerarchie e stampa il risultato proviamo quindi a fare i file di output e a darglielo e vediamo se lo accetta se non lo accetta sono dolori se non lo accetta sono veramente dolori perché finché sbagliate il caso d'esempio è abbastanza facile vedere dove state sbagliando e debaggarlo se invece lo mandate e non prendete il punteggio pieno ok per fortuna ho preso il punteggio pieno questa è la cosa peggiore non riuscire a prendere il punteggio pieno quando lo mandate e la bisogna proprio rileggerselo e sperare di trovare il problema ok ma questa consegna si potrebbe aggiornare sì 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 19 potete potete rifarlo quante volte volete e vi tiene il massimo che avete fatto infatti quando lo consegni esce richiede nuovo input e potete riprovarci quante volte volete e vi tiene il massimo che avete fatto ultimo problema del 2019 dell'anno scorso tra l'altro io sono l'autore di questo problema Multicore leggiamolo quest'anno Mojito il cane di Monica è stato incaricato di gestire il sistema di gara dell'olimpiede di informatica essendo molto preoccupato di fare bella figura ha deciso di destinare tutto il budget possibile nelle CPU che verranno usate dal sistema di gara Mojito vuole puntare ad avere il maggior numero possibile di core a disposizione così da gestire la gara nel migliore dei modi va notato infatti che quando tanti partecipanti sottopongono le loro soluzioni al sistema di gara avere tanti core disponibili è utile perché significa poter valutare contemporaneamente più soluzioni per esempio con una CPU da 8 core si possono valutare 8 soluzioni contemporaneamente non è detto però che una sola CPU da tanti core sia sufficiente gestire l'intera gara per questo motivo Mojito vuole acquistare tante CPU in modo da sommare la loro capacità di calcolo i core disponibili infatti montando una CPU da 8 core e una da 4 core si possono valutare contemporaneamente ben 12 soluzioni sapendo di avere un budget pari a B centesimi di euro Mojito ha deciso di fare i suoi acquisti su un mercatino dell'usato online in questo sito ha trovato N inserzioni l'esima inserzione fa riferimento ad una specifica CPU ad un certo prezzo PDI con un certo nome di core CD Mojito è interessato a trovare il numero massimo di core che si possono acquistare con il budget disponibile ovvero vuole massimizzare la somma dei valori CD delle CPU selezionate facendo attenzione al fatto che la somma dei rispettivi valori PDI non superi B aiuta Mojito scrivendo un programma che scelga quale CPU comprare quindi fai di output cosa deve contenere e il numero di core ok perfetto allora qual è il problema abbiamo un budget B e vogliamo comprare dei processori per ogni processore sappiamo che costa PDI e ha un certo numero di core CD e senza sforare il budget vogliamo massimizzare il numero di core che compriamo non è questo qua non è un problema di quelli che abbiamo proprio esattamente già visto vi chiedo non c'è un problema che abbiamo già visto che è esattamente questo problema qua abbiamo un certo una certa capacità massima abbiamo degli oggetti che vogliamo prendere eh sì quello del CD no quello della benzina tipo no neanche c'è un problema che abbiamo visto che è esattamente questo problema abbiamo una certa capacità massima ok lo zaino lo zaino è lo zaino questo qua è proprio uno zaino e infatti cioè uno lo guarda se uno conosce lo zaino speranzosamente si accorge abbastanza in fretta che è uno zaino e dice ah beh cosa mi serve continuare a leggere scrivo il codice dello zaino e lo risolvo beh peccato che non funzioni perché non funziona perché è importante leggere le assunzioni lo zaino sappiamo che ha come costo numero di oggetti per capacità dello zaino giusto ok e cavoli dobbiamo leggere le assunzioni perché qua il numero di oggetti è 300 che è poco ma la capacità dello zaino è 10 alla nona 10 alla nona è un miliardo cioè questo vuol dire è che se scriviamo il come si chiama la soluzione dello zaino tradizionale vuol dire che ci metterà circa 10 alla 12 secondi perdono unità di tempo anche mettendo che riusciamo a fare 10 alla 8 operazioni al secondo vuol dire che ci metti 10 alla quarta secondi che sono 10.000 secondi che sono tipo tre ore qualcosa sono circa tre ore e che è tutta la gara che al territoriale avete tre ore di tempo vuol dire che dovete istantaneamente scrivere il il codice dello zaino e poi farlo girare per tre ore quindi vuol dire che non è che proprio si riesce facendo lo zaino però il problema è lo stesso ma allora come funziona questa cosa il fatto è che alcune programmazioni dinamiche si può si possono girare si può si può cambiare leggermente la domanda per avere una cosa che trova la stessa soluzione ma cambia la complessità era giustamente ovviamente questo qua non a caso era il problema più difficile questo qua valeva 27 punti cioè finora cosa abbiamo visto abbiamo visto download che era banalissimo tornello che era facile gerarchie che alla fine concettualmente era abbastanza facile però poi implementativamente era un pochino più difficile e invece multicore che ha bisogno di un po' di arguzia mentale poi in realtà il codice vedremo che non è tanto qua e anzi è meno di gerarchie però qua bisogna pensarci allora come facciamo riprendiamo lo zaino quindi lo zaino avevamo detto che noi avevamo degli oggetti ok avevamo una certa capacità che chiamiamo p perché almeno così metciamo in nome del problema anzi no com'è che la chiamano qua b pardon qua la chiamano b ok abbiamo una certa capacità b e ogni oggetto ha un certo peso pdi e un certo valore cdi e vogliamo prendere degli oggetti insieme di questi oggetti in modo che massimizzi la somma dei valori in modo che la somma dei pesi non sfori b e cosa avevamo detto facevamo quella cosa di ordinare l'input e dire se abbiamo uno zaino di una certa capacità di una certa capacità b e sappiamo che vogliamo prendere solo gli oggetti da un certo punto in poi qual è il massimo valore che possiamo ottenere questa era come avevamo affrontato il problema dello zaino e in questo modo la soluzione veniva o grande di n per b ok n per capacità dello zaino in realtà possiamo cercare di girare la domanda e bisogna pensarci bisogna adesso ovviamente poi nel senso magari potete cercare di ritrovare un aggiornamento che vi porta a questa stessa soluzione ma qua l'idea era invece di chiedermi cioè l'idea di ordinarli ce la teniamo la cosa è sempre da qua in poi da un certo punto in poi se faccio dall'oggetto zero in poi quant'è eccetera eccetera qual è l'idea invece da cambiare invece di chiedermi se io ho uno zaino di capacità b e voglio stare su questo range di oggetti qual è il massimo valore che posso ottenere io mi posso chiedere se ho questo range di oggetti e io voglio attenzione io voglio portarmi a casa un valore v cioè io fisso che dico io voglio avere un certo valore v che riesco a portarmi a casa voglio assolutamente avere quel v qual è il la capacità minima che mi serve dello zaino per portarmi a casa quel valore v quindi vedete che ho girato il problema prima chiedevo dato uno zaino di capacità c quant'è il massimo valore che posso portarmi a casa invece adesso il problema che mi pongo è se io voglio portarmi a casa v qual è la minima capacità dello zaino che mi serve ok questa è come girare la frittata una volta che si riesce a fare questa girata di frittata se riricaviamo l'algoritmo viene più o meno lo stesso cioè viene sempre una programmazione dinamica però quando facciamo il calcolo del costo della programmazione dinamica non verrà più o grande di n per b ma se chiamiamo diamo un nome chiamiamo v il chiamiamo v il max anzi dai siamo generosi chiamiamo v la somma su tutti quanti gli i dei cdi ok v diciamo che è la la somma di tutti quanti i valori su quanti cdi beh l'algoritmo verrà o grande di n per v perché essendo che il numero di stati non sarà più n per le capacità possibili ma sarà n per i valori possibili abbiamo girato l'irragionamento avendo una funzione che comunque risponde alla nostra domanda e abbiamo cambiato la complessità dell'algoritmo invece di essere n per b diventa n per v e quindi e quindi essendo che i v sono ognuno al massimo 200 e ce ne sono al più 300 questo algoritmo ok questo algoritmo per questo caso particolare diamo un nome al massimo chiamiamolo z z è il max dei cdi che al massimo è 200 quindi verrà o grande di n quadro per z e n quadro per z ci sta perché n è 300 quindi n quadro sarà quanto 90.000 per il massimo di c che è 200 quindi verrà tipo 18 milioni ma 18 milioni che è meno di 10 all'ottava ci metterà meno di un secondo ok quindi qua bisogna bisogna avere l'accume mentale di riuscire a girare il il classico zaino bisognava trovare un altro modo di risolvere lo zaino che invece di posare la propria pesantetta la propria complessità su B la posasse su C scriviamolo quindi questo problema come si chiama multicor questo è il famoso problema che dicevo che in gara hanno risolto 6 persone e vedete che effettivamente è abbastanza complicatuccio cioè in realtà non è difficile da scrivere perché poi alla fine adesso scriverò uno zaino un normalissimo zaino però il fatto è che lo zaino non è data un dato di capacità C qual è il massimo valore ma è dato un certo valore che voglio ottenere qual è il minimo peso con cui posso farlo va bene scriviamo questo zaino allora giusto per cambiare vediamo invece di farlo in modalità ricorsiva perché come avevo detto le cose si possono fare o in maniera ricorsiva o in maniera iterativa cerchiamo di fare in maniera iterativa giusto per cambiare e vediamo cosa ne esce allora avremo sempre il nostro T ok e poi faremo for se T caso uguale a 1 finché caso è minore o uguale a T caso più più fino a qua tutto abbastanza solito bene come è fatto l'input l'input ha prima il credo che sia prima il il valore e poi il peso ah no non è vero scusatemi la prima riga è ovviamente quanti sono e qual è la capacità quindi dobbiamo prenderci quelli intanto quindi abbiamo 6 T N e int spero ci basti vediamo 10 alla 9 si ci dovrebbe bastare perché sono la capacità di lo zaino 10 alla 9 in un int ci sta tranquillamente quindi e quindi int B che sarà la capacità dello zaino ci riprendiamo quindi numero di elementi e capacità dello zaino ok e ora ci dobbiamo prendere gli oggetti e poi dobbiamo farci sopra questo zaino inverso diciamo questo zaino girato allora cosa facciamo allora possiamo beh intanto ci prendiamo gli elementi quindi ci saranno due vettori ok chiamiamolo i numeri originali quindi magari questo qua è una b minuscola eh minuscola perdono e chiamiamo i valori c che saranno n e i pesi li chiamiamo p che saranno n anche loro li leggiamo i minore di n i più più li leggiamo e quindi leggiamo cosa cin c di pd ok che appunto sono questi qua quindi stiamo leggendo ok ora dobbiamo fare la tabella per salvarci i risultati come sarà fatta questa tabella sarà un vector di vector perché sarà una tabella è la tabella dove ci salviamo i risultati intermedi solita cosa ci sarà dentro dentro ci sarà il minimo peso che riusciamo a ottenere per avere un certo valore allora saranno interi fondamentalmente perché sono pesi quindi saranno interi la chiamiamo memo ok e com'è fatta questa memo che dimensioni ha beh ha intanto quanti oggetti stiamo da che oggetto imposto stiamo considerando facciamo che diciamo quanti oggetti tipo che ne so 0 vuol dire che dobbiamo prendere tutti 1 vuol dire che dobbiamo prendere il primo 2 vuol dire prendere il secondo e così via quindi facciamo un n più 1 per una dimensione della tabella e poi questo è come dichiaro la seconda dimensione della tabella qua ci sono i possibili valori ora i possibili valori quale sarà sarà fino alla somma di tutti quanti quindi me lo devo calcolare ma allora sarà la somma di tutti quanti i valori e allora cosa faccio mi creo una variabile chiamiamocela v ok e ogni volta che prendo un valore faccio che v gli sommo il valore che ho appena preso ok così v più 1 perfetto e la inizializza meno 1 per dire guarda che non guarda che non guarda che posso guarda che meno 1 è il valore di default che dice guarda che sta roba non la posso fare ok ripensandoci la facciamo ricorsiva perché a meno che siamo più nello schema delle cose che sappiamo fare quindi dobbiamo fare questa funzione che restituisce un intero che ci dice qual è il minimo peso con cui sappiamo ci dice qual è il minimo peso con cui sappiamo portarci a casa un certo valore presi solo i primi top oggetti ok allora che facciamo chiamiamola f cosa ci serve sapere ci serve sapere quale oggetto stiamo considerando quindi chiamiamolo n quindi attenzione 1 sarà lo 0 2 sarà l'unesimo e così via perché 0 vuol dire che non stiamo sistemando oggetti poi abbiamo il valore che ci vogliamo portare a casa v ok questa funzione ci deve restituire il minimo peso con cui ci possiamo portare a casa quel valore e poi cosa facciamo ci serve beh ci servono i c e i p per forza di cose quindi ci servono i c ci servono i p e poi ci servirà anche memo che è dove ci serviamo i risultati intermedi dobbiamo fare la programmazione dinamica e quindi ok cosa facciamo facciamo così allora programmazione dinamica quindi si basa sul concetto che se abbiamo già calcolato una certa soluzione quindi se memo di n di v è maggiore o uguale a 0 perché abbiamo detto che meno 1 vuol dire che non si può fare e qualunque cosa invece maggiore o uguale a 0 vuol dire che abbiamo già calcolato allora come ogni programmazione dinamica facciamo subito ritorniamo subito alla risposta indipendentemente da tutto perfetto ora dobbiamo fare i casi base quali erano i casi base i casi base è che se prendiamo 0 elementi se n è uguale a 0 ok se n è uguale a 0 quello che dicevamo l'altra volta è che se n è uguale a 0 indipendentemente dalla capacità dello zaino possiamo sempre avere un valore 0 qua però non è la stessa cosa qua il caso base è leggermente diverso qua è che se il numero di oggetti è 0 se il numero di oggetti è 0 ok allora noi possiamo ottenere il se il numero di oggetti è 0 qual è l'unico valore che ci possiamo portare a casa? cioè se noi se noi ci forziamo a prendere 0 oggetti che valori ci possiamo portare a casa? qual è la somma dei valori che ci possiamo portare a casa? Stefano C? se noi abbiamo 0 oggetti ok qual è la somma dei valori di questi 0 oggetti? 0 0 se il caso base è che se abbiamo 0 oggetti ok l'unico possibile valore che ci possiamo portare a casa è 0 non ce ne sono altri quindi se 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 v è 0 allora lo possiamo fare perché stiamo prendendo 0 oggetti e quindi il il valore che possiamo portare a casa è 0 possiamo fare solo questo altrimenti altrimenti non possiamo farlo non possiamo portarci un valore a casa che è maggiore di 0 se abbiamo 0 oggetti e quindi restituiamo meno 1 per dire che non si può fare ok poi altro caso base è se v è uguale a 0 se v è uguale a 0 se stiamo questionando i primi negli oggetti possiamo sempre portarci alla casa? beh sì perché basta non portarci a casa niente basta che non prendiamo nessun oggetto ok quindi abbiamo fatto i casi base i casi base sono se non abbiamo oggetti allora l'unico valore che possiamo fare è 0 non possiamo fare altro non possiamo fare 1 se abbiamo 0 oggetti non possiamo portarci a casa 1 se abbiamo 0 oggetti invece il caso base del v uguale a 0 beh se v uguale a 0 allora possiamo sempre farlo indipendentemente da quanti oggetti stiamo considerando perché basta non prendere nessuno bene ora quindi quello che dobbiamo fare è se stiamo considerando quindi il l'oggetto iesimo l'oggetto indexesimo chiamiamolo index che è n-1 posso farlo in qualche modo? c'è un qualche modo con cui posso ottenere questo valore e se c'è più di un modo qual è il minimo peso con cui posso farlo cosa posso fare? beh io posso scorrere io so qual è il valore di io so qual è il valore di come si chiama? di v so qual è il valore di index scusatemi che è c di index ma allora io posso chiedermi se dovessi prendere cioè posso o non prenderlo questo oggetto ok e allora guardo se con un oggetto in meno potevo farlo oppure se posso prenderlo beh allora cerco di cerco di prenderlo e quindi vado a vedere se c'è nel se prendendo un oggetto in meno potevo fare il valore meno il valore che ho io potevo fare il valore che voglio arrivare meno il valore che ho io ok tra l'altro metterei un altro gas base giusto per scaramanzia che è che se il valore è minore di 0 ok se il valore è minore di 0 beh allora abbastanza tranquillamente possiamo affermare che non si può fare se non posso mai prendere un valore negativo perché i valori sono maggiore o uguale a 0 perfetto quindi cosa sto dicendo io voglio prendere i due i due possibili pesi con cui riesco a portare mia casa questo v e cosa dico tra l'altro dovremmo separare il si può fare dal non l'ho ancora calcolato perché qua usavo il meno 1 un po' interscambiabilmente invece ci sono dei casi dove non va usato così interscambiabilmente cioè il fatto è questo che se potremmo fare che il valore dobbiamo usare un valore speciale per dire non l'abbiamo ancora calcolato ok e dobbiamo usare un valore speciale che ci dice guarda che non si può fare questa cosa qua allora cosa potremmo fare potremmo usare meno 2 per dire che non l'abbiamo ancora calcolato un certo valore allora questa inizializzazione invece che farla meno 1 la facciamo meno 2 e poi così possiamo dire guarda se è maggiore o uguale di meno 1 quindi stiamo anche assumendo il non si può fare che è meno 1 allora ritorna quel valore che abbiamo precalcolato ok detto fatta questa piccola precisazione quindi dobbiamo fare due casi abbiamo due scelte questo cavolo di oggetto indexesimo o lo prendiamo o non lo prendiamo quindi chiamiamo pp il peso se lo prendiamo ok il peso se lo prendiamo quale sarà? beh sarà f di n-1 ok perché sto prendendo un oggetto in meno lo stiamo prendendo quindi sarà v-cd index ok e poi vabbè sempre c p e memo quindi questo è il caso in cui lo vogliamo prendere chiamiamo invece pn peso cioè quindi il peso se non lo prendiamo il caso in cui non lo vogliamo prendere che quindi sarà f di n-1 perché ancora non lo stiamo ci stiamo considerando un elemento in meno e il valore sarà v perché non lo stiamo prendendo quindi se per fare v dobbiamo aver già potuto fare v quindi c p e memo ora il fatto non è detto che p p e pn si possano fare quindi abbiamo quattro casi se entrambi si possono fare quindi if pp è maggiore o uguale a 0 e pn è maggiore o uguale a 0 quindi se entrambi si possono fare allora devo prendere il migliore quindi il peso memo di n-v il peso migliore comunque posso farlo sarà se l'ho preso sarà quindi il minimo tra o lo prendo quindi pago un peso pp e pago anche il peso di prenderlo quindi p di index ok oppure è solo il peso di non averlo preso altrimenti cosa ho altrimenti altrimenti se pp è maggiore di 0 quindi vuol dire che pn è minore di 0 quindi posso farlo se lo prendo ma non se non lo prendo allora in questo caso la soluzione è per forza di cose il caso del prenderlo ok altrimenti potrebbe essere che posso farlo solo se non lo prendo allora in questo caso e devo per forza non prenderlo non posso fare altro altrimenti potrebbe essere che non posso farlo né se lo prendo se non lo prendo allora in questo caso è meno 1 che vuol dire guarda che non si può fare alla fine restituisco la risposta n v ok bene una volta fatto ciò cosa devo fare? beh posso dire guarda intanto segniamoci il maximum che è il massimo valore che possiamo portarci a casa posso dire per tutti quanti gli i che vanno da 1 quindi finché posso prendere fino a un elemento posso prendere fino a n elementi ok quindi minore uguale a n i più più per tutti quanti i valori possibili quindi for int j uguale a 0 finché j è minore uguale di v j più dico che se f che è la nostra funzione che ci dice qual è il minimo peso che possiamo fare per portarci a casa quel valore se f di i j i j c p perché mettereci dentro c e p e memo c p memo se il peso minimo con cui ci possiamo portare a casa il valore j è minore uguale della capacità dell'oziano che abbiamo che è b ok allora questo è un valore possibile allora dico che maximum è uguale al massimo tra maximum e questo valore che ho trovato che è j alla fine di tutto ciò in maximum ci sarà la risposta caso coso ed è maximum ok vediamo se compila ok prendiamo il caso ad esempio per vedere se va 2 e 28 e non va ottimo perché fa 2 e 12 quindi dobbiamo anche debaggarlo allora ci dice 2 e 28 28 tra l'altro 28 come è uscito e ha fatto si ha fatto ha sommato questi 3 quindi c'è pure un bug che dobbiamo riuscire a trovare quindi ci sta dicendo guarda che j uguale 28 si può fare con un peso che è minore uguale di b anche se questa cosa è palesemente non vera andiamo a debaggare allora se l'ho già calcolato perfetto altrimenti casi base se n è 0 posso fare solo v uguale a 0 altrimenti non posso farlo se v uguale a 0 lo posso sempre fare se v è minore di 0 non posso farlo allora cosa faccio dico guarda se lo prendo vuol dire che sto considerando un elemento in meno e faccio cd index gli sottraggo il costo al valore che sto cercando di fare ok e poi gli passo cp se non lo prendo voglio fare quel valore e non sottraggo niente ok e dico guarda se posso farlo sia prendendolo che non prendendolo allora memo dnv sarà il minimo tra il peso di farlo prendendolo più il peso di averlo preso e il peso di non averlo preso se invece posso fare solamente se posso solamente prendere il primo caso quindi solamente posso farlo solo se lo prendo allora il peso sarà pp più pd index ok altrimenti se non lo prendo beh il peso è pn perché tanto questo qua non ho messo il valore e ce l'avevo comunque altrimenti se entrambi non ho potuto farli allora meno uno vuol dire guarda che non non si può fare quindi così occhio mi pare giusto però palesemente non lo è e allora a questo punto si debagga si fa il buon caro vecchio debugging allora vediamo un po' una cosa che potremmo fare ad esempio è per ciascuno stampare cosa ci dice qual è il peso minimo quindi cosa facciamo facciamo un bel cr che ci dice se n è i e poi abbiamo che v cioè il valore che stiamo portando a casa è j ok allora il peso minimo è questo qua quindi proviamo a stampare questo questa cosa qua allora cosa ci dice vediamo un po' i pesi perché ovviamente se non ce li ho così sotto mano è un po' difficile quindi il primo oggetto pesava 5000 quindi vedo già qualcosa che non va perché ci stai dicendo guarda se prendi solo il primo oggetto e il e il come si chiama il valore 0 allora è 0 perfetto e questo ci sta però poi mi dice guarda che se prendi solo il primo oggetto vuoi ottenere il valore 1 allora puoi farlo con un peso 27.000 che direi che non è vero direi che non è assolutamente vero ok cerchiamo di capire il perché quindi sbaglia abbastanza in fretta che è un bene in questo caso allora cosa sta succedendo sta succedendo che quindi posso fare senza dovermi raccapezzolare particolarmente non entra qua dentro palesemente non entra qua dentro non entra neanche in questi casi qua quindi ci aspettiamo che sia qua allora cosa facciamo facciamo un bel CR che ci dice copio questo qua ok così almeno sappiamo che siamo qua dentro bene scrivo faccio proprio inside questo qua almeno so che sono qua almeno così posso vedere che il pipi vale questa cosa qua e il non averlo preso invece vale questa cosa qua almeno posso vedere se ci dà dei valori sensati o meno non gli piace perché non le ho chiamate i e j giustamente ma si chiamano non si chiamano i e j ma si chiamano n e v ok allora vediamo un po' andiamo su al caso n1 v1 ci dice pipi ci dice guarda questo è il motivo perché ci sta dicendo guarda che se hai se tu lo prendi allora lo sai fare se tu lo prendi allora lo sai fare che è palesemente falso quindi andiamo a tracciare un po' cosa sta succedendo cosa stiamo chiamando f di n-1 che vale 0 v-cd index che varrà un qualche valore negativo probabilmente cp memo ok ah ok 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 chiarissimo il fatto è che un v negativo è sbagliato qua dentro perché cioè nel senso è sbagliato l'ordine in cui sto facendo i casi il fatto è questo un v negativo che è non valido se lo faccio dopo aver controllato la matrice dove salvo i valori beh un v negativo è fuori da questa matrice quindi chissà che danni succedono ok allora commentiamo i con i le stampe di debug e vediamo che risposta c'è da adesso ancora 2.28 che è sbagliato ok decommentiamo le stampe di debug potrebbero esserci altri casi brutti no perché n deve essere sempre maggiore o uguale a 0 v se non è maggiore o uguale a 0 lo sto segando sul nascere perché gli sto dicendo guarda che sei un caso base e quindi faccio le stagioni a meno 1 subito vediamo un po' che succede allora stampa 28 cerchiamo il più piccolo caso che sbaglia questo è un po' un modo cioè questo è come io debuggo ma è un modo di debuggare quindi stampare cosa sta succedendo ci sta dicendo guarda sei un elemento e vuoi fare il valore 4 beh allora puoi farlo con 5000 che è vero che è assolutamente vero perché abbiamo un elemento da 5000 e quindi ok poi passiamo a 0 uguale a 2 se vogliamo farne 1 e vogliamo spendere e vogliamo farlo con 4 lo possiamo fare se vogliamo avere il valore 6 lo possiamo fare con 7000 e se vogliamo avere il valore 10 lo possiamo fare con 12000 che è assolutamente vero il terzo avrà ancora 4 avrà 6 8 vediamo un po' se c'era sì c'era un 8 che costa 4000 ok 12 l'ha fatto con 5000 più 4000 infatti vale 12 ok e poi questo ha fatto 11000 e così avanti ne ha fatti altri più grossi ok ha fatto gli stessi eccetera eccetera quello che sta succedendo è che abbiamo quindi un 28 che ha dato 24000 come valore però ce lo sta dando come soluzione quindi sarà sbagliato il confronto probabilmente questo dicendo guarda che se f è minore di b e b era la capacità dello zaino allora sto facendo questo maximum tra i e j però questo qua non pare essere minore allora vediamo un po' qual è il valore che lo fa che lo rende minore così almeno cerchiamo di debaggare quello come vedete debaggare poi anche in gara diventa un una force of will diventa un un riuscire a a stampare le cose nel posto giusto tracciare l'esecuzione del proprio programma eccetera eccetera ah ok certo certo è chiarissimo qual è il problema non mi basta controllare che la capacità cioè che il peso che pago sia minore devo anche controllare che sia maggiore o uguale a zero perché sto usando il valore speciale meno uno per dire guarda che questo non lo posso fare quindi segniamoci il valore chiamiamolo v ok segniamoci il no perdono non è il valore il peso chiamiamolo a ok che quindi è questo peso qua vado a levare perché adesso sono abbastanza convinto che sia corretto quindi vado a levare le stampe di debug ok stavo dicendo stavo dicendo chiamiamo questo valore qua a e io non devo solo controllare che a sia minore o uguale a b che è quello che facevo prima ma devo anche controllare che a sia maggiore o uguale a zero perché vuol dire guarda che questo valore lo posso ottenere perché sennò stavo prendendo anche meno uno che erano i valori che non posso ottenere ok e fa 2.12 che è quello che ci aspettavamo proviamo a scaricare quindi l'input multicore ok proviamo a scaricare l'input proviamo a farlo andare e ci ci dà le risposte proviamo allora a mandarlo nell'output proviamo a mandarlo e vediamo se funziona carica soluzione quindi siamo multicore in punto cpp l'output e ora preghiamo speriamo che da 27 su 27 ok e quindi così abbiamo finito la gara abbiamo fatto full score ci abbiamo messo un tempo ragionevolmente alto nel senso ci abbiamo messo due ore perché alla fine era tutto commentato era tutto quanto fatto passo passo quindi ci sta che ci abbiamo messo circa due ore a fare tutta quanta la gara del 2019 alla fine perché c'erano problemi anche non banali tipo appunto multicore e questa era la gara ci sono particolari so che sono andato un pochino veloce verso la fine perché ho notato che stavamo andando cioè stavamo usando tantissimo tempo vi consiglio io poi pubblicherò le soluzioni che ho scritto vi consiglio di riguardarle vi consiglio di ragionarvi voi autonomamente in caso potete riguardare la registrazione di questo video per potete riguardare questo video per sentire le cose che magari con un pochino più di condizione di causa riuscite a capire meglio quindi detto ciò ci sono domande osservazioni finali direi di no ok va bene allora per oggi abbiamo finito grazie a tutti